Agnello alla vignaiola, ma col curry. Saliamo e andiamo a cuocere subito, dolcemente. Sta cuocendo benissimo, lo spostiamo, lo facciamo andare da solo e intanto facciamo la vignaiola. Guanciale a dadini senza fondo, così. Questa è la mia pizza di scarola che diamo di contorno all'agnello. E adesso andiamo in forno. Scoliamo il guanciale dal suo grasso perché è troppo. Un po' del mio olio. E giù la vignaiola, pade, piselli, cipolline bollettane, taccole. Questo è il grasso d'agnello che facciamo noi. Adesso lo usiamo per far continuare la cottura. Brodo vegetale. E adesso un pizzico di curry verde. Come tutte le carni deve riposare qualche minuto. Adesso una crosticina di pane, menta, aglio e pecorino. E adesso in salamandra. E come al solito cottura perfetta. Andiamo. Vignaiola. Agnello. Insalatina di carciofi. Forno di agnello. Manoè! Sì, sì. Conta la pizza. Santissimo. Che bello come lo so. Che spettacolo. E la serviamo insieme al nostro agnello. Qua. No, scherziamo mica qui. Faccio io il piatto, va bene? Grazie, gentilissimo. Mamma mia. E come sempre, è buonissimo. È buonissimo.